Si sente anche molisano il generale Antonino Neosi, neocomandante della legione carabinieri Abruzzo e Molise. Per lui prime uscite ufficiali anche nella nostra regione dove ha trascorso una parte importante della sua vita. Ha incontrato i vertici locali dell'arma ma anche i rappresentanti istituzionali e ha partecipato alle celebrazioni per la festa delle forze armate la giornata dell'unità nazionale. Per me è un bel tornare nel Molise considerato che io qui ho passato tutta la mia infanzia fino al liceo quindi alla fine tornare come comandante dei carabinieri per me è una grande soddisfazione. Neosi ha ribadito il ruolo di prossimità che devono avere i carabinieri soprattutto in una terra come il Molise. Io sono convinto di una cosa che bisogna intanto avere una grande fiducia nelle istituzioni quindi in coloro che si occupano dell'ordine della sicurezza pubblica ma in particolare io credo molto nel rapporto che deve esserci tra le istituzioni, tra le forze di polizia che devono lavorare all'unisono in sinergia ma devono soprattutto avere il contatto con il territorio e con la gente. Noi carabinieri nasciamo sul territorio quindi siamo parcellizzati con le piccole unità, con le stazioni e il Molise rappresenta uno proprio di quei territori dove siamo presenti. I carabinieri come le altre forze preposte a garanzia della tutela e sicurezza dei cittadini sono impegnati su vari fronti tra i quali quelli dei furti negli appartamenti che stanno creando preoccupazione. Credo sia molto importante ritornare a quella sorta di controllo sociale che c'era un tempo che si creava nelle piccole comunità. Ora noi in qualche modo viviamo la difficoltà che molte nostre piccole comunità, molti nostri paesi si vanno spopolando quindi di conseguenza è la gente stessa che fa difficoltà nel riconoscere anche tutti coloro che circolano in quel territorio. Bisogna anche considerare la grande mobilità che c'è attualmente sul territorio. Ognuno di noi si muove in maniera molto più rapida e veloce e di conseguenza purtroppo anche coloro che delinquono spesso si spostano rapidamente nei territori. Ovviamente le forze di polizia, l'arma dei carabinieri deve mettere in campo un'attività che è soprattutto un'attività informativa che poi è quella che alimenta come una linfa l'attività preventiva per poi arrivare all'attività repressiva.